Un saluto da Liuk65 Ciao Anakin Stamattina mi sono imbattuto nel tuo video Ti dico ciao Anakin Perché io mi rivolgo a te Perché tu non hai proprietari Sei un cane indipendente Perché il Malamute non ha proprietari E questo io lo posso dire per certo perché Nel 98 ne ho avuto uno E l'ho ottenuto fino Ed è stato mio compagno di vita fino Al giorno di Natale del 2008 E quindi Che dire Non ho potuto vedere il video Tutto il video Perché Per me è molto complicato Però Non ti voglio fare nessun augurio Non mi piace fare auguri Ti auguro di essere sempre felice Sul divano Con i tuoi amici Non proprietari Amici I Malamute non hanno proprietari Hanno compagni di vita Sono allo stesso livello Di chi si riporta a casa E quindi Tante dormite sul divano Tanta pappa Calda Tante carezze Tanti dialoghi Anche tante partite Come faceva Il mio Luke E quindi Con un Auuuuu Ti auguro Un mondo di bene Amico Ciao dalla Luke Anche tante partite